Allora, vediamo come si accorda il violino. Prima si prende la nota con il diacoson, la nota è un La. Per aggiustare questa corda prendiamo il pirolo in questo modo, lo ruotiamo facendo in modo che non esca dalla cassetta e quindi si fa pressione con questo dito, il medio. Una volta presa la nota passiamo alla corda Re, ruotiamo la mano in questo modo, facciamo pressione invece con il mignolo che è dalla parte opposta. Fatto questo passiamo al Sol, la mano rimane nella stessa posizione, è importante sempre fare pressione dalla parte opposta del pirolo in modo che non esca dalla cassetta. Infine passiamo al Mi che si accorda da qua, dal tiracantino, in questo modo. Grazie. 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 Grazie.